Siamo con Francesco Petrelli, 4-5 giocatori in particolare hanno spiccato oggi, ma io direi complessivamente una grandissima prestazione della Ternana. Diciamo che la miglior prestazione della Ternana da inizio dell'anno, con Liverani in 8 partite e 16 punti, i 5 giocatori che tu citavi direi che sono Diachite, Meccariello, Falletti, Palombi e anche Ledesma, oggi Ledesma quella punizione magistrale per l'incornata di Palombi e ho dimenticato Falletti, che anche Falletti ha corso per 90 minuti, erano parecchie gare che non stava al top come abbiamo visto oggi. Una Ternana direi strepitosa che non ci aspettavamo, nel secondo tempo il Frosinone è anche calato, ha appena segnato la Ternana ovviamente ha tirato i remi in barca, una Ternana eccezionale, 3 punti d'oro anche viste le dirette rivali, peccato che il Trapenaro era segnato al 91esimo, però ecco noi dobbiamo guardare come ha sempre detto Liverani in casa nostra, quindi sono tre punti che ci proiettano non proprio fuori dalla mischia, però andremo a Brescia il 25 con più coraggio e con più consapevolezza. Una Ternana semplice, sensata, questo forse è il merito appunto di Fabio Liverani, che però è stata capace anche di una grandissima reazione dopo che sul 1-0 Avenatti ha sbagliato un rigore e quello a livello di contro a colpo psicologico poteva essere come un gol subito e invece no, il raddoppio. Perfettamente d'accordo con te, la semplicità che ha dato a questa squadra Liverani, ormai lo ripetiamo da parecchie giornate, Avenatti ha anche calciato bene il calcio di cori, purtroppo ha preso la traversa, poteva essere per noi uno shock psicologico, invece la Ternana è ripartita, veramente una Ternana che non ci aspettavamo perché comunque poteva succedere quello che tu dicevi, per fortuna non è successo. Qualt'ultimo appare merito, quinto ultimo per sconti diretti, ma adesso andiamo subito appunto a Brescia. Il Brescia è paricuota con noi, che partita sarà a Rilamonti? Allora noi a Brescia, non vorrei fare lo scaramantico, abbiamo anche una tradizione positiva. A Brescia sarà una partita sicuramente dura per entrambe, noi ci siamo in queste ultime gare, diciamo che davanti a squadre superiori abbiamo dimostrato comunque di poter competere. Il Brescia è una squadra alla pari, quindi credo che andremo a giocare una partita a viso aperto, una partita dove abbiamo la possibilità di giocare su due risultati su tre e quindi giochiamocela. Come oggi. Come oggi. Il bello della Ternana-Corso-Leverani è che ogni partita se la gioca. Dispiace quel punto perso a Benevento, perché anche ieri il Benevento con il Vicenza non ha fatto niente, quindi non vorrei fare dietrologia come ovviamente dice Liverani, pensiamo sempre alla prossima. La Ternana adesso è consapevole dei propri mezzi, si sta giocando alla salvezza e noi tifosi, noi operatori di informazione crediamo nella salvezza. I giocatori stanno facendo il possibile, quindi non credo che possiamo rimproverargli niente. Grazie a Francesco Pedrelli. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e per la scopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Con Gigi Manini commentiamo una vittoria bella, importantissima. Non so se inaspettata, visto il nostro periodo di forma e contemporaneamente anche il trend veramente negativo del Frosinone. Comunque al di là del trend loro e della buona forma della Ternana, insomma sulla carta era una partita difficile, dopo il primo tempo sembrava molto equilibrata, non ha ripresa la Ternana invece secondo me ha legittimato assolutamente la vittoria, c'è anche il rigore sbagliato da Venatti. Penso che nessuno possa dire nulla sulla vittoria della Ternana, il Frosinone purtroppo per loro ha i suoi problemi, adesso si trova terzo in classifica, ci dispiace ma fino a un certo punto perché invece la Ternana si trova a 39 punti, qualche settimana fa non ce l'aspettavamo assolutamente. Peccato per la vittoria del Trapani che secondo me ha un po' rovinato la giornata, che se il Trapani avesse pareggiato col Pisa la giornata sarebbe stata veramente trionfale. sulla prestazione della squadra mi sento oggi veramente di dire poco, peccato per Venatti perché ha sbagliato il calcio di tiro perché secondo me ha giocato pure bene, ma un Valletti nella ripresa decisivo, Palombi insomma che non ha toccato molti palloni, ha fatti due golle quindi c'è poco da aggiungere, Meccariello e Diachireti io direi che in difesa sono stati bravissimi, insomma io mi esprimo al meglio quando critico, diciamo che oggi invece sono assolutamente felice perché questa squadra adesso merita tante lodi perché partiva da una situazione di classifica psicologica terribile ma dall'avvento di Riverani in poi mi pare che abbia un cammino fra i migliori della categoria, adesso io dovrei fare i conti stasera li farò meglio ma secondo me siamo fra le migliori squadre dall'avvento di Riverani ad oggi, diciamo che l'obiettivo sono i play out ma stiamo pensando forse a qualche altra cosa, è chiaro che dobbiamo superare ancora qualche squadra, certi play out sono sempre una lotteria, sarebbe meglio evitarli e non aggiungo altro. Siamo a due punti, è possibilissimo, Fabio Riverani indubbiamente ha dei grandi meriti con la sua semplicità e la sua normalità, prima di questa partita eravamo fra le tre migliori squadre appunto dall'avvento di Riverani e a questo punto Gigi in questa stagione dal punto di vista gestionale veramente scellerata un po' di rimpianti ce li abbiamo, certo cerchiamo di evitare il pericolo maggiore ma veramente poteva essere ben altra cosa. Beh ce l'avevamo da prima rimpianti, adesso speriamo di non averli alla fine perché se poi alla fine l'obiettivo che si deve raggiungere è la salvezza non avremo rimpianti perché tanto questa squadra più di quello secondo me non poteva fare, è chiaro che se invece dovessimo avere dei problemi tipo anche arrivare ai play out da quintultimi avremo dei rimpianti perché magari con pochi punti di più durante le prime due gestioni saremmo stati salvi e questo sì però speriamo insomma adesso in questo momento non possiamo dire, possiamo dire solo che mancano cinque partite, sono mi pare tutte e cinque difficili, tre in trasferta e due in casa, forse quella con la spalla speriamo di averla quando loro saranno già promossi ma l'ultima Ascoli è da far tremare i volsi e non abbiamo solo quella perché abbiamo altri due sconti diretti, Brescia e Vicenza. E allora ti chiedo subito di Brescia in conclusione Gigi, siamo a pari merito, 39 punti per entrambe in classifica, noi per il momento in vantaggio per gli sconti diretti, a che partita ti aspetti e b firmeresti per il pareggio? Qualcuno direbbe di no, ma io non sono un ipocrita e dico di sì, perché vista la classifica adesso un pareggio potrebbe andare, ma anche perché, bravo, stavo per dirlo, manterrebbe gli sconti diretti a nostro favore, il che sarebbe molto importante, quindi un pareggio a Brescia secondo me va bene, poi dopo bisogna vedere anche le altre, è chiaro che un pareggio a Brescia poi sottintende che dobbiamo vincere con il Carpi, ma altri quattro punti si fai arrivare a 43 quando mancano due partite, tre partite, insomma, direi che un obiettivo possibile? No, no, ma un obiettivo che sarebbe assolutamente soddisfacente visto come stavamo messi qualche settimana fa, 43 quando mancano tre partite, insomma, sarebbe veramente un ottimo ottimo risultato, perché poi, insomma, ripeto, la spalla, io penso che con la spalla la differenza la potrebbero fare le motivazioni, così come si suol dire, insomma, no, per non dire altro, e poi dopo è vero che Vicenza e Ascoli sono brutte, ma già con 43 più 3 della spalla, 46, insomma, vabbè, non facciamo voli vindarici, godiamoci sta vittoria e penso a un finale di campionato infuocato e bellissimo. E speriamo bene, ma le cose sono già cambiate, grazie a Gigi Malini. Siamo con Lorenzo Pulcioni, Sportelni, Lorenzo, vero che noi siamo in forma, il Fiosinone decisamente in un periodo negativo, però direi che questa vittoria, soprattutto di imposizione così netta, non ce l'aspettavamo oggi. Sì, innanzitutto chiedo scusa per la mise piuttosto sportiva, ma oggi faceva veramente caldo e ne hanno risentito anche le squadre, nel primo tempo almeno, poi, e mi rilaccio alla tua domanda, nel secondo tempo la Ternana ha preso campo, anche se già nella prima frazione era partita bene, poi c'era stato il ritorno del Frosinone, ma comunque la sensazione sempre è stata quella di una squadra in grado di potersi giocare la partita alla pari con chiunque. Forse sono i primi 5 minuti del secondo tempo di sofferenza. Sì, però in linea con l'andamento delle ultime 7-8 partite, ricordiamo 16 punti nelle ultime 8 partite con Liverani in panchina, cioè una media da primo posto, non da promozione, da primo posto, non da playoff, da primo posto. Oggettivamente è una squadra che corre, una squadra che sa tenere testa l'avversario, che sa soffrire, che magari è anche un pizzico fortunato in alcune circostanze, che ci può stare rispetto a quello che succedeva prima. Liverani ha il merito di aver fatto delle scelte logiche, puntare su Petriccione, puntare su Palombi, puntare su un Falletti trequartista, mettere le persone giuste al posto giusto, a differenza di quanto non ha fatto invece il più esperto Caudieri prima di lui. E niente, due mesi fa eravamo morti, caro Federico, adesso ce la giochiamo, siamo vivi. Peccato il Trapani che ha battuto il Pisa negli ultimi minuti, se no stavamo a pari punti con Brescia e Trapani, però insomma diciamo che non ci possiamo lamentare. Una vittoria importantissima non solo per il nostro campionato, ma direi anche per quello in generale dell'intera cadetteria, visto che lascia aperto il discorso play-off in cima e quindi anche il fatto che tutte si dovranno giocare i punti fino in fondo e quindi sarà veramente un finale di stagione molto infuocato. Sì, il Frosinone non viene da un periodo brillantissimo, abbiamo visto anche a fine partita dei tifosi, insomma se la sono presa con la squadra. Un po' ingenerosi forse? Beh, insomma, a me piacerebbe stare al loro posto con la squadra terza in classifica e sicuramente un campionato che resta aperto fino alla fine, appassionante. Grazie a Lorenzo Pulcioni. Ultimi commenti in mix zone del Libero Liberati dopo Ternana Frosinone 2-0 firmati www.calcioternano.it con il direttore Tommaso Patrica Ferrante. Analizziamo questa bella vittoria della Ternana con l'avvento di Fabio Liverani. sono 16 i punti in otto partite. Beh, diciamo che, cioè, dico che sì, soddisfatto con la prestazione, faccio una piccola digressione. Non si può da sportivo, mi permetto di non ricordare Michele Scarponi, è una morte che a me personalmente ha colpito e appunto non sono riuscito a godermi questa vittoria per il pensiero di questo ragazzo che non ce l'ha fatta dopo questo tragico purtroppo evento di questa mattina. Per quanto riguarda la partita stessa, ci sono cinque calciatori sui quali mi voglio semplicemente soffermare. La coppia Meccariello-Diachide oggi, Diachide granitico, Meccariello gigantesco, concentrato fino alla fine, sta facendo un finale di campionato strepitoso. Simone Palombi, vabbè, l'odore della doppietta, naturalmente per l'ennesima volta un Jacopo Petriccioni in grandissima crescita nella ripresa. Un Cesar Farletti devastante nelle ripartenze a campo aperto e poi diciamo l'unica nota negativa è stata non tanto il rigore sbagliato calciato da Venatti ma proprio come è stato calciato, ci ha fatto prendere un colpo a tutti perché comunque ti stai giocando il campionato e tenti un lob sul calcio di rigore è stato veramente una stretta che poi fortunatamente non ha portato delle conseguenze. Il tuo migliore in campo? Il mio migliore in campo è Cristian Ledesma, non l'ho detto apposta perché me lo volevo tenere per ultimo. Cristian Ledesma che è un calciatore che magari può sembrare sotto certi punti di vista magari un pochino lento nelle giocate ma di pensiero è velocissimo. Finalmente da quando calcia lui i piazzati sono arrivati due golli consecutivi, non è un caso di Agite lunedì scorso e oggi il gol che ha sbloccato la partita. Con Riccardo Tommasi invece mi vorrei soffermare sulle parole dei giocatori rossoverdi che hanno elogiato il tecnico Liverani e hanno detto che con l'ex calciatore della Lazio la Ternana è rinvigorita. Sì beh è abbastanza evidente Ale con Liverani in panchina la squadra ha letteralmente cambiato impostazione di gioco ma non a livello tattico, a livello mentale perché in questo momento secondo me per come gioca la Ternana può mettere un po' tutti in questo campionato e ovviamente questo periodo ci porta a dire a distanza di due mesi che la salvezza diretta può essere un obiettivo realisticamente raggiungibile e due mesi fa sapevamo benissimo invece com'era la convinzione popolare con una retrocessione quasi scontata. Merito è anche di Mr. Liverani che non ha cambiato tanto a livello tattico, ha dato semplicemente certezze perché adesso abbiamo un 11 titolare fisso praticamente salvo infortuni e squalifiche e ha dato una mentalità viva, attiva ad una squadra che adesso ci crede a prescindere dall'avversario perciò se tutti i giocatori sono concordi nel dire che Liverani ha dato tranquillità, serenità e più certezza e più compattezza a questa squadra il campo ne dà testimonianza con una media punti pazzesca, due punti a partita davvero in questo momento del campionato noi e il Trapani li stiamo facendo, però solamente due squadre che lottano per salvarsi però complimenti al mister se li merita. Ultime cinque sfide di questo torneo di Serie B, secondo te quale può essere la partita chiave per la salvezza maternana? Se parliamo di salvezza diretta probabilmente martedì a Brescia in caso di vittoria noi possiamo veramente guardare con positività un finale di campionato che ci vedrà impegnati in trasferta sempre sconti diretti perché con il pareggio di oggi anche Lascoli rientra nella lotta per non retrocedere. Le due partite a casa sulla carta speriamo che non ci creino grandi problemi perché il Carpi ha riperso anche oggi perciò si allontana un po' da playoff la spalla di questo passo a due dalla fine sera in Serie A. La gara decisiva sì probabilmente è questa del Regamonti perché perdere purtroppo e per come siamo messi significherebbe buttare via quasi un mese di ottimi risultati e vincere di contro ti fa balzare probabilmente anche in zona salvezza diretta vediamo i risultati delle altre perciò dico Brescia. Da Libero Liberati vi salutiamo e vi auguriamo una buona visione sul canale di On TV.